Il precedente è stato stato detto che il presidente è stato stato molto convaino. Il precedente è stato 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 fatto a supravenire il подcambiente. Incidente sabato 16 novembre intorno alle 18.30 in via Sarassa, angolo via Fiume a Olianico. Coinvolte due vetture, una Fiat Stilo e un Peugeot 208. Sul posto sono intervenute i 118, i carabinieri di Rivarolo Canavesi e la protezione civile di Olianico. Ferita la ragazza, che era la guida del Peugeot, una 23enne di strambino, che sarà trasportata all'ospedale di Ciriè, non dovrebbe essere in pericolo di vita, illeso il conducente della stilo. L'accertamento è in corso sulla dinamica. E torna la polemica dei residenti sulla pericolosità dell'incrocio. L'amministrazione comunale, intanto, ha già provveduto a preparare una bozza di progetto che è stata presentata alla città metropolitana, per dotare l'incrocio di impianti semaforici. La città metropolitana ha già effettuato un sopralluogo e dato il benestare. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS